Sulla regione nel fine settimana avremo un progressivo peggioramento nel tempo, mentre sabato prevarranno in quota correnti nord-occidentali ancora relativamente secche, progressivamente queste piegheranno da ovest e sud-ovest nel corso della giornata di domenica, diventando più umide, fino a che nella notte tra domenica e lunedì passerà un fronte freddo piuttosto importante in arrivo dall'Austria. Nel dettaglio per sabato avremo cielo poco nuvoloso sulla regione, con temperature massime intorno ai 16-17 gradi su pianura e costa, minime di 5-6 gradi in pianura, 10 sulla costa, zero termico a 1800 metri. Per la giornata di domenica maggiore nuvolosità, con cielo in prevalenza nuvoloso o localmente anche coperto, specie sui monti e sulla fascia orientale, mentre sulle zone sud-occidentali sarà possibile qualche schiarita in giornata. Dal pomeriggio possibilità di qualche debole pioggia sulla zona orientale e sui monti, sui monti dal pomeriggio sera qualche nevicata oltre 1300 metri, ma sarà dalla tarda serata che vi sarà un marcato peggioramento con l'arrivo del fronte freddo, per cui nella notte tra domenica e lunedì piogge intense e nevicate abbondanti con quota neve intorno ai 600 metri. Poi nella giornata di lunedì avremo residue piogge e nevicate, vento forte da nord-est e di bora sulla costa con raffiche anche oltre 100 all'ora, ma dalla serata e lunedì il tempo tenderà a migliorare, per cui martedì avremo solo probabilmente della bora con una nuvolosità variabile. Dall'osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador. Grazie a tutti.